Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, io sono il nostro Mighty Mars, oggi siamo con un gioco nuovo almeno per quanto riguarda il mio canale, Cloudpunk, è un gioco un po' particolare, intanto ringrazio gli sviluppatori che me l'hanno regalato, questo va detto, è un gioco Cyberpunk, futuristico, un pochetto dark, però ha una grafica retro, diciamo un po' quadrettona, quindi sono due elementi che ideologicamente non è che stanno molto bene insieme, però andiamo a vedere cosa hanno combinato gli sviluppatori, ok io l'ho provato un'antichia, però sinceramente bisogna vedere come si sviluppa il gioco, diciamo carino, può essere carino, però bisogna vedere anche la giocabilità, allora tutto il gioco si basa su questa navicella o macchina volante, auto volante, diciamo che si frena LT, RT, alzati a basso, ok, destra e sinistra, c'è questa atmosfera cyberpunk, un pochetto dark, non so chi è questa gente che piacchera, è in italiano ragazzi, molto positivo, i più glielo diamo, una volta tanto, sono la giocattina decüsse, è davvero un pochetto di ascolimento, le cose si è avvicinata, è molto più sicko di as IG ajbalzare, e lo vado quindi sono una donna sale di campagna la vedo un po' difficile qua non vorrei Raina, io sono Raina oh, ma ammazzo colonna sono già venuti addosso due volte allora noi qua possiamo seguire la sala principale che sono queste arterie qua oppure andare anche per i fatti nostri in mezzo ai palazzi oh, oh, questo quindi noi dobbiamo andare, secondo il radar della mappa nel triangolino nel triangolino abbiamo le monete 2.060 monete qui c'è un sacco di segnalini però lì non devo andare come atmosfera a me piace molto la grafica retro non mi dà fastidio oh, l'ho superato però ma come faccio le tomacce? così così si difende poi bisogna sempre vedere ragazzi se tutto il gioco è fare il postino avanti e indietro con la macchinetta è un po' monofono perché bisogna vedere un po' come si sviluppa la sensazione diciamo a prima kit è molto carina tipo a frena, frena bravo sono col gamepad ragazzi quindi niente niente monosetta stiera allora questo siamo noi massimo siamo brutterelli ci abbiamo anche la prima persona però io non la inserirei perché ma è carina anche la prima persona non lo dobbiamo fare però stiamo così piove stranamente perché sennò non sarebbe un gioco d'arca se ci fosse il sole va a cogliere il carico mi do uno mi do uno no, no, no non partiggiare non partiggiare è busy e è un mese non esattamente dobbiamo andare nel nel quartiere malfamato si sa va bene andiamo non si legge mai quando si guida no Bello Deva! Io per ora seguo Vabbè, andiamo fuori strada Non chiedere mai cosa c'è dentro il pacco Solitamente dentro il pacco c'è sempre una grande sorpresa Purtroppo Dipende che è il destinatario Non è male sto giochettino qua, dai Dipende tutto da come si sviluppa Non so, la base è molto interessante secondo me Poi il gioco va sviluppato Non so se ci saranno dei potenziamenti in base a cosa Cosa possa potenziare Non so se ci saranno Purtroppo E anche sotto Cosa cosa Si, è così E anche dopo Siamo più inizia Si, è un problema Non ci saranno No ci saranno Non 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 ci saranno Un po' di gioco Un po' di gioco Un po' di gioco Un po' di gioco E' il vecchio chiacchera Ma fate già due balle assieme Andiamo 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 Ma santo chiacchera Per le lessive Cosa Carli Ma ripropo Il fredere Poglula Ma ripropo Ma ripropo Ma ripropo Il fredere Gli attrazione Non ci saranno Anche Ma ripropo E' il fredere Ma ripropo Ci saranno Cosa Ma ripropo Di gioco Ma ripropo Ma ripropo Oh no Aspetta E' anche il nostro Pagano E' vero C'è questo C'è questo Non abbiamo ancora più Non abbiamo mai tanti Non è vero C'è un po' che c'è? 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 Qui è Cora? I need two arguments no expense spared I can hardly read the holocrons these days it's all just a blur let's see just rip here and oh what is it gold it's old ha 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 my ship models the r7 icbm and sputnik the nasa shuttles the un interplanetary 101 why did they send these it must be some kind of right yeah let's see dear erwin we know these two wrong to you at one time we need to sell the apartment but your father has a scheme it seems risky but if all goes well this will arrive just before we land at the colonies we're going to the stars just like we always dreamed I know it's hard out there but if we keep our heads down we can start sending you money for the operations more than enough money just hold on honey everything is going to be ok sorry I should go yeah yeah I guess so quindi lui io io trasportare un pacco dove lui pensava ci fosse praticamente dell'oro e invece ha trovato dei vecchi giocattoli e una lettera di mamma che però non c'è più quindi insomma vabbè comunque un bel ricordo però non è diventato ricco e good job kid I looked into your profile it says you came from the eastern peninsula heard it's nice there what made you want to come slumming with us in the valus it's the biggest city in the world I wanted to make an impression mo qual'è la mia macchina non mi ricordo dove ho parcheggiato questa no the current of people and ideas and the crabs e wash everything away I'll make it sure you will kid just try making it through tonight first we need you to head up to the mercantile district you are moving up in the world what's the job same as always take a package from a to b without too many questions a is a warehouse b is a penthouse transmitting nav points now and remember don't let them look down on you kid the merchants are as far from the clouds as they are from the gutter okay control on my way so they want to I'm going to take another pack with a few more words did you try the okonomiyaki okonomiyaki isn't that a pancake right with fish flakes I wouldn't trust the fish flakes here in the valve would you like to appear on my food review channel we're looking for people to react different stimuli what there's a free meal in it for you or would you pretend to be really in our viewers love that I am annoyed that's perfect vabbè allora praticamente noi siamo finiti in questa grande città a fare il corriere di pacchi sospetti che bello la vita futuristica load hova ai load assistant load computer helper do you want to activate the generic automata yes that's the one automata now available in generic limited mode how can i help you today sir not sir my name is rania how can i help you today mr rania i'm not a mister update my profile please profile changes are locked in the trial generic automata would you like to upgrade to my limited offer monthly subscription premium mode now how much to replace you with an existing AI do you have a hard on storage media I do then the transfer cost to unlock the automata is how would you like to pay direct transfer please insert storage media transfer in process automata personality chemists will be activated in approximately 20 minutes would you like to deactivate the generic automata personality now yes deactivating please enjoy your new automata good day mr rania c'è mille cinque perché così a buffo c'è più soldi ora diciamo oh l'imorte oh ma poi con sti fani non vedo nulla levati così mille cinque poi fanno c'è non ho mio campo decisionale e proprio zero va beh andiamo a quest'altro pacco o a prendere il pacco l'ho capito bene è che devo leggere devo guardare la mappa la gente di là che cammina che non rispetta niente quindi andiamo qua per il palazzo vai su l'imortazione tua allora distretto mercantile spacciatore la cosa si infittisce ma dov'è il pacchetto ecco a me come atmosfera piace molto secondo me ha un ottimo potenziale sto gioco bisogna giocarlo e vedere come lo hanno sviluppato i gameplay di questo gioco posso comprare la cioga uno sballo marrone dorato come da un costante tutti credevano che il juice fosse uno stimolante legale fino a quando la casa farmaceutica ha smesso di pagare la mazzetta al corpo secco lo stimolante stimano i tessuti cerebrali e muscolari per darti quella carica in più non so ma che è sto secco vabbè spacciatore non so poi che valenza avranno il gioco sicuramente servirà a qualcosa noi andiamo a fare la nostra missioncina come l'è hey nice to meet you lady not bad ramen vegano è dallo spacciatore a ramen vegano il passo è breve non so anche qua a mangiare cosa servirà perché non penso che sia la formula sente vero che ci sono praticamente i denari e il fuel della macchina o la macchina sarebbe carino se si potesse entrare anche dentro tutti questi bei palazzoni ma non credo eh il pregato di fondo sei cordiale io sono da cloudpunk cloudpunk ok here c'è un passaggio non aprile non chiedermi non chiedermi e non sei tardi e prima di chiedermi sì è supposed to smell like that ok grazie è questo real meat? che cosa devo dire? chiocchone? vabbè un pacco che punza ridagli al vecchio cavoi come in 14FC come and you handling the Hava so far? hello this is 14FC yes everything is totally fine a parte non spaccionate orifici a provato relax can you get the hang of it what's given you the most trouble? the traffic? sì e and how fast everyone drives they all know exactly where they're going you'll be that fast once you get your bearings faster even just remember the highways channel and induction loop through your Hava right it's pretty simple when you're on the highways it's like the road is moving under you you'll get a big speed boost use the highways to get as close to your destination as you can and then cut off when you're close ok più ma vicino I can only park in the base right? I can only park in the base right? I can only park in the base right? right? that's right the others are meant to touch the ground the repulsors on the parking base keep the undercarriage a few centimeters off the ground why do they want all the other? it's not just a technical restriction corps sec defines the parking around the ust mi ABOUT i don't know any other dude i cant marci but i need tomee ugg to maximize traffic flow i guess that's a good thing for us I guess that's a good thing for us è vecchia, legge, è vecchia, ma sta fumando ecco, sapevo, no? ecco, se andiamo a sbattere dobbiamo poi riparare il veicolo e ci potrebbero essere anche delle sanzioni però io lo vado a sbattere perché leggo l'infinito chiacchiericcio del vecchio se dicesse le cose un attimino più rapidamente del tipo, se ti avvicini alla superstrada vai tu veloce, punto, finito se ci metti tre ore per darmi un'informazione è logico che io vado a sbattere, no? no, non sto andando più niente, lentissimo mi sa che è sopra cerchiamo di non sbattere e ma poi dove lo riparo? il parcheggio? ah, c'è il parcheggio, non lo so comai dov'è il parcheggio qua? non so com'è il passaggio non so com'è il passaggio mica, qual è l'antano? No VAMOS Ma saranno i sbagliato il paquete? Sempre un po' Posta no show Sempre bella gente si incontra Mi sa che ho sbagliato il paquete Mi sa che ho sbagliato il paquete Merda Ho sbagliato il paquete Ah un'angoscia E' un robottino Ah l'atmosfera è figa ragazzi Mettaci un po' Come spara qua Madonna Tutti eh Ma non c'è un parcheggio qua Ah è questo qui Parcheggio, parcheggio Per l'amor di dio Prima che scoppia tutto qua Oddio 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 D'accordo che sto portando a Mr. De Beere Questo è il mio servizio Dà me in questo momento Hey, street ratta Questo è stato tamperato? Cosa? Non! Buono Molto dimenticare chiede ciò che è in il paese Oh, no, no, no Cosa è in il paese? Cosa è in il paese? Cosa? 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 Vabbè, consegnato 100 dollari Quindi Cioè, io quello che voglio capire è lo sviluppo del gioco Vabbè, ragazzi, io comunque direi che possiamo concludere qua Oh! Il metro, bellino! Cosa? 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 Un'altra cosa chiede, bisogna andare sul piede, quindi non si vedevano sospicioso, o si vedevano sospicioso, e non si vedevano Cloudpunk, o io. Con stile dark, a me piace molto, bisogna vedere come lo sviluppano, perché non penso che il gioco si limiti a fare le consegne dei pacchi avanti e indietro con un catorcio fumante, sarebbe un pochetto misero, anche se magari ci può stare una lore molto bella, molto appassionante, però bisogna vedere come si sviluppa, però a me incuriosisce parecchio. Dobbiamo un po' vedere, va bene, noi per il momento ci fermiamo qua, magari nel secondo episodio vedremo un po' come si sviluppa il gioco. Ciao a tutti ragazzi!